Siamo qua in piazza della vittoria, oggi c'è il Friend for Future, manifestazione contro le cause dei cambiamenti climatici. Siamo con Gioele, un rappresentante degli studenti dell'Istituto Amoretti, giusto? E vabbè, dietro potete vedere c'è una discreta folla. Ecco, per la piazza questa mattina, Gioele. Siamo in piazza per mandare un segnale di forte, assieme a tante altre piazze in Italia, ben 173, più di 300 in tutto il mondo. Siamo qui perché vogliamo dire stop ai cambiamenti climatici, il cambiamento climatico che è diventata un'emergenza non più sostenibile. E solo entro il 2030 si può fare qualcosa. Dopo il 2030 gli effetti saranno irreversibili. Vi siete contati più o meno quanti pensate di essere? Superiamo il migliaio, pensiamo intorno al 1200-1300 persone. Grazie mille Gioele. Grazie a voi.